Tournament Day, giorno del torneo. Abbiamo il torneo maratoriale su questi quattro campi. Qui abbiamo invece le ragazze top junior della Bulgaria sotto i 12 con il coach che vengono qua a giocare, che sono bravissime. Sono pure toste, mamma mia, mi farebbero un culo tanto questi, te lo posso dire. Questi invece sono gli amatoriali. Qua c'è il campetto di calcio e là si fa allenamenti. Qua sono sul tetto del club. Ciao a tutti.